Una colata di colore codificata in 3500 varianti cromatiche capaci di dare vita alle infinite sfumature di preziosissimi mosaici. L'impatto quando si entra nella Biblioteca dei Colori della Fornace Orsoni a Venezia è emozionante. Libri in vetro che custodiscono la storia di un'alta forma di artigianato veneziano. L'arte musiva, imprescindibile per la raffinata eleganza delle tessere in vetro. Tessere che ornano la Sagrada Famiglia a Barcellona, Gaudì voleva solo queste. La Basilica di San Marco, l'Abbazia di Westminster, la Basilica del Sacro Cuore a Parigi, la Catedrale di St. Paul a Londra, sino alle sontuose dimore degli sceicchi medio orientali, quadratini preziosi realizzati in questa antica fornace che si riapre la città. La fornace Orsoni risale al 1888, sorge a pochi metri dal ghetto ebraico e l'unica e ultima fornace a fiamma viva attiva nel centro storico di Venezia. Uno scrigno d'arte che vuole riaprire il dialogo con la città. La fornace è un punto di raccolta e quindi di svolta delle persone che sono interessate a venire qui. Io ho interesse a invitare queste persone, non solo, ho interesse ad aprire questa fornace al mondo della cultura, al mondo dell'arte, che mi interessa, al mondo della musica, a tutto questo tipo di mondo che oggi c'è già, ma potrebbe avere un altro posto, un'altra location esclusiva che è la fornace Orsoni. Tecniche antiche e innovazione hanno sempre caratterizzato l'operato di questo laboratorio creativo, capace di produrre centinaia di chili di pietra al giorno, dove l'attività ferve parallelamente i progetti della fondazione, che ha in animo anche di avviare in collaborazione con la scuola Abate e Zanetti un percorso formativo congiunto per avvicinare nuove maestranze all'arte vetraia. Smalti, oro e anche diamanti? Smalti, oro e anche diamanti perché quando si tratta di cose esclusive, allora il diamante comincia ad essere interessante per quelle persone, possibili clienti, che verranno ospitati qui nella fornace Orsoni. Solo i Medio Orientali? No, al diamante piace a tutti, piace molto alle donne, logicamente. Stiamo parlando di Medio Orientali, stiamo parlando di Russi, ma stiamo parlando anche di Americani. Cioè quando si va in quel mondo di altissimo livello, poi non esiste differenza, sono tutti attratti da queste cose particolari. Dall'esposizione universale di Parigi, ad inizio del XX secolo, a Biennale del III millennio, le tessere Orsoni sorprendono ed ammaliano. Per le soluzioni che propongono, dalle 18 gradazioni dell'oro che la foglia 24 carati incastonata tra due strati di vetro propone, tra cui il famoso ed unico oro San Marco per i mosaici della Basilica, al vetro artistico composto da micro diamanti bianchi e neri. Un materiale extralusso che gli sceicchi, ora immortalati in ritravi, musivi imponenti e carichi d'oro, devono ancora scoprire per eventuali profili stilizzati di rara preziosità, non solo artistica, ma misurabile in karate. L'umanità è una sola, non vi sono primi e secondi, grandi e piccoli, ma in ogni popolo si ritrovano fermenti, origini, principi e radici di ciò che oggi noi siamo. Sono le parole di Giancarlo Ligabua, imprenditore, mecenato, esploratore, studioso, archeologo, la cui passione è diventata la collezione che porta il suo nome e che prosegue il figlio Inti. Sono passati quasi tre anni dalla scomparsa del mecenate, ma vive la sua eredità, che si rinnova con due mostrevento e un simposium internazionale con Donald Johnson. Dal 12 gennaio è il mondo che non c'era, l'arte precolombiana, 150 opere che raccontano civiltà mute della Mesoamerica fino all'America del Sud, prima dell'arrivo di Cristoforo Colombo, un continente nero che sarà svelato a Palazzo Loredà, nello stesso palazzo che ospiterà a Venezia anche idoli, gli sguardi del potere, dal 1 settembre 2018 al 6 gennaio 2019. Un viaggio nel tempo e nello spazio, la ricerca di simboli ed idoli che accompagnano ogni civiltà. Ci siamo, oseremo dire, una mostra che è sintesi molto di più dell'arte precolombiana, e sintesi di un'anima archeologica viva di questa città, Giancarlo Ligabue. Beh, grazie. Oggi presentiamo il mondo che non c'era, ma presentiamo soprattutto la programmazione dell'attività 2018 della Fondazione Giancarlo Ligabue, che inizia appunto con il mondo che non c'era, una mostra sull'arte precolombiana, una mostra che racconta l'incontro tra due mondi, l'antico e il nuovo mondo, i conflitti, il cortocircuito culturale che genera questo incontro, ma anche con degli approfondimenti importantissimi come ad esempio i doni del nuovo mondo, alcuni alimenti che rimangono importantissimi nella nostra alimentazione, il mais, il pomodoro, la patata, che saranno il motore immobile, il motore della rivoluzione industriale del XVIII secolo. Quindi una mostra importante che parte il 12 gennaio e terminerà il 30 giugno. Quali sono gli elementi di quest'arte precolombiana, di questo mondo che non c'era particolarmente rappresentati in questa mostra che poi denotano anche una particolare, credo, ricerca di chi li ha voluti collezionare andandoli a ricercare perché poi non era una pura collezione, era un approfondimento archeologico, era un percorso di conoscenza? Sì, presentiamo circa 150 oggetti. Il percorso tematico inizia proprio nella Mesoamerica dove arrivarono i primi esploratori e scende visitando gli Olmecchi, i Maya, tutte le culture mesoamericane tipiche, scendendo verso le culture andine, quindi l'Ambayeque, gli Inca, Mochi, Chavin. Quindi è un percorso di 8.000 chilometri e di più raccontando queste culture, queste culture rimaste mute nella storia. Quanto in queste culture mute nella storia sono importanti i simboli, gli amuleti? Ma troviamo di tutto, troviamo dai felini nelle culture Olmecchi, la trasformazione antropomorfica da felino a uomo, troviamo tutte le rappresentazioni geometriche della cultura Nazca, ci sono degli elementi iconografici veramente interessanti. Ma raccontando queste culture vogliamo anche fare approfondimento, ci saranno dei laboratori didattici per i più giovani, ci saranno gli approfondimenti appunto, quello che ho detto prima, sull'alimentazione, sul ruolo degli italiani nella scoperta del nuovo mondo, gli esploratori, i cartografi, i mecenati che mantengono viva queste culture. Quindi sarà una mostra anche didattica. Giancarlo Ligabù è un grandissimo mecenate, come prosegue la sua ricerca? Oggi è una giornata particolarmente emozionante perché presentiamo appunto tutto il programma del 2018, ma è anche il coronamento di un percorso, il 2018 sarà il coronamento di un percorso, perché ha visto l'incontro con più di 100.000 persone organizzando queste mostre in altre città e finalmente arriva a Venezia, dove portiamo queste esperienze fuori città, anche appunto in tutte quelle che sono le tematiche correlate, a Venezia. Sarà un anno veneziano, due mostre, i dialoghi, un simposio, un simposio che sarà condotto dal nostro Donald Johansson, racconterà come l'uomo ha conquistato la terra e quindi verranno toccate, in questi tre anni avremmo toccato, tutte le tematiche che mio padre definiva le vie di Damasco, la scrittura, la scoperta del nuovo mondo e gli idoli, perché sarà la seconda mostra, nel secondo semestre 2018, racconteremo idoli, disiguardi del potere. Non voglio rivelare troppe informazioni, perché sarà una grande sorpresa, ma è una mostra che racconta tra il tardo neolitico e l'età del bronzo come alcune figure antropomorfe vogliono raccontare il mistero, la fertilità e le prime divinità. Le ha lasciato un'eredità o le ha passato un testimone? Le ha passato una grande passione ed è anche una grande responsabilità, perché questo patrimonio di opere, documenti, oggetti, studi non potevano rimanere chiusi all'interno di un ambiente privato e quindi questa è la grande passione che mi ha trasmesso e devo dire durante la prima mostra quando abbiamo visto tutti questi oggetti che prima magari erano in ambito privato, vederli tutti insieme e raccontare una storia di cultura è stato un grande passaggio ed è questo che noi facciamo oggi, vedere studenti nei laboratori didattici c'è stato un grande impulso. Se potessi spiegare a questi studenti chi era suo padre, perché poi alla fine si fa fatica, a ricordare che era un imprenditore e un archeologo in qualche modo, come lo definirebbe e come lo definisce lei? Un grande curioso, eclettico nelle sue passioni e nei suoi approfondimenti, è passato dai fossili all'archeologia, all'studio delle scienze naturali, ai disegni antichi, quindi ci sono molti approfondimenti che ha fatto. Quindi sicuramente un curioso e poi mi ha sempre segnato che lo studio di alcuni oggetti materiali, possa essere un vaso maio, possa essere un idolo, un altro oggetto materiale, che racconta e ridà vita, ridà voce a questa antica cultura, è qualcosa di molto importante, ma assolutamente anche importante ed essenziale lo studio e il recupero di questa civiltà, perché non può che essere il modo per comprendere la nostra comune umanità. Alla ricerca di civiltà poco conosciute, ma anche anima viva di Venezia, cosa penserebbe della Venezia di oggi? Ma lui diceva che Venezia è come il mare, si ammala ma non muore, bisogna bisogna curarla un bel po' però adesso, questa città, ma non si può chiamarla, e infatti questi 12 mesi di impegni a Venezia è anche il sigillo verso la passione che abbiamo verso la nostra città. Grazie a tutti.